Mirko Valdifiori, finalmente un giocatore del Toro. Sta a me ripagarli sul campo, quindi ripeto sono molto contento perché ho voglia di rimettermi in gioco, di sentirmi importante per questa società e spero di dare il massimo insieme ai miei compagni già da domani. È stata un'annata che anche se ho giocato poco però penso che mi sia servita, mi è servita per crescere, mi ha fatto fare la mia prima esperienza in Europa, ho giocato otto partiti in Europa quindi sono anche contento nel senso, però dentro magari adesso c'è questa voglia di arrivare in una società nuova, di stupire e magari quell'Europa che ho lasciato a Napoli di raggiungerla qua con questa maglia. So che arrivo in un gruppo nuovo, qualche ragazzo lo conosco già, quindi ripeto entrerò con la massima umiltà ma con tanta voglia di lavorare e di fare bene tutti insieme per il bene del Torino. Hai toccato il tasto centrale, il gruppo è sempre stato la forza del Toro e lo sarà ancora e in più con te. Beh guarda io questo penso sia un aspetto fondamentale, avere un gruppo sano, avere un gruppo compatto, soprattutto anche magari durante l'annata se si attraversa le difficoltà, il gruppo è quello che ti può aiutare a uscire appunto da questi momenti. Io spero però che il Torino non abbia difficoltà, che sia un'annata bella per tutti, un'annata entusiasmante e quindi ripeto c'è da lavorare e da domani mi metto a disposizione, sono contento, molto. Un saluto a tutti i tifosi e sempre Forza Toro.